L'associazione Comusè del Lago Rai vi accompagna a visitare la mostra Donne e Montagna. Passeggiando virtualmente nei luoghi più suggestivi dei paesi di Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno incontriamo ritratti al femminile, storie di donne che con forza, caparbietà, sorrisi e gesti di cura hanno abitato e abitano le nostre montagne. Le foto ci conducono sul territorio alpino e raccontano la molteplicità di azioni, impegni, passioni ed emozioni che stanno dietro questi volti al femminile. La mostra è suddivisa in sei sezioni, piccole donne, lavori al femminile, generazioni, in malga, ritratti e sportive. Vi auguro una felice passeggiata virtuale fatta di ricordi, sensazioni ed emozioni che spero queste foto vi susciteranno. Da sinistra Anna Maria Ferrai, Anna Maria e Mariuccia, turiste di Trieste, ospitate a Telve dalla famiglia di Ferrai-Luizi. Sulla porta la cameriera Dorina Stroppa. 1952 Calamento. Tre giovani posano davanti al rifugio alla Cappella di Calamento, l'attuale Hotel Aurai. Particolare e curioso, Mariuccia era la sposa dello stilista Valentino. Da notare che il rifugio è stato quasi sempre gestito da donne. Prima, fino agli anni 50, dalle sorelle Rosina, Lorenzina e Fanny Franzoi. Poi da Maria Campestrina, Giannina e Flora Burlon, Rita Fedele. Martina Ferrai, 2020 Calamento. L'hotel Aurai oggi è gestito da tre giovani sorelle, Stefania, Martina e Elena Ferrai. Nella foto, Martina, versa lo spumante per un aperitivo nel cuore del Lago Rai. Una nonna sgrana i fagioli. 1962, spiado. Mani che si intrecciano, saperi che passano di generazione in generazione. Una nonna sgrana i fagioli che venivano utilizzati per ottime minestre, con cui riscaldarsi durante il freddo periodo invernale. Grandi e piccole mani che portano avanti gli stessi gesti, raccogliendo i fagioli nel grande grembiule nero della nonna. Momenti preziosi di condivisione, accompagnati dal silenzio o forse da qualche racconto dei tempi passati. Piera de Gama, 1958, San Martino di Castrozza. Preparativi per cucinare una gustosa polenta in alta quota. In Gita, San Martino di Castrozza, le donne si dedicano a predisporre tutto l'occorrente per preparare il pranzo. Virginia Rigo e Giusto Campestrini, 1982, Orna. Anna Maria Pompermaier, 1973, Samona. Le donne aiutano mariti e figli a fare il fen nei prati di montagna. Mattine e pomeriggi a Spander, Voltare, Fararele e Mehe, per seccare l'erba che diventerà un buon fieno per gli animali. Maria Campestrine e Giuseppina dal Trozzo, inizio anni 70, su Erda. Dritto e rovescio con i ferri, alto e basso con l'uncinetto. Sedute su una panca di legno e su uno sgabello, Maria e Giuseppina si dedicano all'arte del fare la maglia. Indossano il grembiale e la tipica telara, e grazie al tempo disteso che si vive nello stare a monte, sono immerse nel loro lavoro, mentre gli uomini sullo sfondo sono occupati nello sfalcio dell'erba e i bambini giocano. Da destra Dario del Castagnè, Zaira del Castagnè e Elio Furlan. Fine anni 40, Siverana. Anche Zaira sferruzza affiancata dal fratello Dario, mentre il futuro marito Elio la osserva sdraiato sul prato. Anna Paternolli, anni venti, casa Bolenghetta. Preparazione delle scese per il focolare. Anna, con il manerotto, prepara la legna per accendere il fuoco utile a riscaldarsi, a cucinare, ma anche elemento di compagnia col suo crepitio. Vice Campestrini, anni 70, Torcegno. Cura degli animali. Vice guarda le sue galline, che ricambiano lo sguardo. Sembra conversare affettuosamente con loro. Vittoria Palù, 1938, Praluvo. Il lavoro nei boschi, soprattutto quando si tratta di recuperare le ramaglie, viene praticato anche dalle donne. Vittoria Palù, assieme al marito ed altri uomini del paese, si adopera per recuperare la legna per la scuola elementare di Torcegno. Infermeria ad alta quota Hertha Miller House Tra le figure femminili che fanno parte della storia del nostro territorio, ricordiamo l'infermiera austriaca Hertha Miller, impegnata con il marito medico sulle montagne del lago Rai e l'assistenza dei feriti durante la Prima Guerra Mondiale. L'infermeria ad alta quota Hertha Miller House, realizzata alla fine del 1916 dai militari austriaci sulla cresta che da quota 2.300 metri dirige verso la cima del Bortolo, è dedicata a lei, crocerossina e moglie del colonnello medico imperiale Miller. Nel dicembre 1916 una valanga travolge e uccide 96 militari asburgici e prigionieri russi a Val Solera. Tra le vittime anche il medico Miller, mentre Hertha viene estratta viva dalla neve, ma l'esperienza tragica ne compromette per sempre la salute mentale. Adriana del Maso, anni 50, cima rocchetta. Dove è andata Adriana con tanta tenacia? Sfoggia un paio di pantaloni alla zuava, sicuramente un passo avanti per le donne di quell'epoca che indossavano abitualmente la gonna. Maria Teresa Rampellotto, 1965, sasso rotto. Salita impervia anche per Maria Teresa Rampellotto che conquista con orgoglio la cima del sasso rotto. Giuliana della Rosa, anni 70, canyon, calamento. Anche in inverno le donne sono protagoniste in montagna. Giuliana della Rosa è stata la prima e per molto tempo unica donna che nei comuni dell'Eco Museo del Lago Rai praticava lo sci alpinismo. Costituita da scarponi e sci lunghissimi, l'attrezzatura sportiva era molto pesante, ma non rappresentava un impedimento per affrontare i pendi nevosi della Valle di Cagnona. Valentina Campestrini, 26 gennaio 2018, cima sasso rosso. Valentina racconta l'uscita alpinismo delle donne di oggi che lo praticano più facilmente grazie ad attrezzature leggere e confortevoli. Eccola Felizia con alle spalle il sasso rotto e gli sci in spalla per raggiungere l'ultima cresta che porta a cima sasso rosso. Carla Balduzzo, 1977, Val di Rava Loretta Verù, 2015, Laghetti, Val d'Inferno, Val Campelle Due modi di approcciarsi alla montagna, due modi di viverla, amarla e rispettarla. Carla, con un grande zaino sulle spalle, parte per un'escursione in alta quota dove la fatica del percorso è annullata dalle bellezze dei paesaggi montani che incontra. Loretta si allena attraversando, con balzi da un masso all'altro, i laghetti della Val d'Inferno. Nel corso degli ultimi anni, anche nel territorio delle comuse del lago Rai, le donne hanno cominciato a partecipare a competizioni sportive in montagna, trei, sky race, gare di sci alpinismo. Donne e arrampicata Carla Balduzzo, 1992, Lago Rai Carla è stata la prima donna in Valsugana a provare questa disciplina. La vediamo scalare una parete del Lago Rai durante il suo viaggio di nozze. Loretta Berù, 2015, Cima Cecce Loretta si appresta a raggiungere Cima Cecce con grande abilità. Donne sulle piste da sci del territorio, quando la neve scendeva abbondante e ogni sciclub organizzava corsi e gare. Maria Grazia Ferrai, inverno 1978, Val Calamento. Ultima curva per Maria Grazia prima dell'arrivo allo skiff della pista da sci di Val Calamento. Elena Campestrin, 1995, Casapinello Posizione a uovo per Elena che sfreccia a gran velocità verso il traguardo della pista da sci di Casapinello. Carla e Diana Balduzzo, 1968, Torcegno Loretta Berù, 1978, Val Campelle Prima e falcate sulla neve per Carla, Diana e Loretta, con il tipico abbigliamento sportivo invernale. Scarponi da montagna ancorate alle assi degli sci, attacchi rudimentali, calzettoni di lana pesanti. Pronti, attenti, vi è imparare l'uscita alpinismo. Un gruppo di donne a Malga Sette Selle 18 ottobre 1937, Sette Selle Con gonna, calzetone di lana e scarponi aiutate da un bastone di legno, alcune donne nell'ottobre del 1937 giungono sorridenti ai piedi di Malga Sette Selle. Sarà stata la meta della loro escursione o saranno dirette sul Sassorotto? Una montagna aspra e impegnativa da raggiungere, per questo metta in vita. Marisa Trentin, 29 giugno 1963, Sassorotto Marisa Trentin, nel 1963, ritratta i piedi della parete. Sappiamo che conquisterà poi la cima. Bice Campestrini, 30 ottobre 1990, frazione Campestrini, Torcigno. In passato le donne avevano tra i loro compiti quello di accudire le bestie, quando queste non erano all'alpigio. Bice si prende cura degli animali con la passione che caratterizza il nostro mondo rurale alpino e sorride allegramente perché una mucca le sta leccando la mano. Marina Palù, estate 2019, Malga Sette Selle Da 34 anni la famiglia Palù gestisce Malga Sette Selle occupandosi dell'allevamento del bestiame. Marina Palù, nipote di Guido, storico malghese capofamiglia, aiuta nella caseificazione. Una giovane donna di oggi che raccoglie e porta avanti la tradizione. Agnese Iopstraibizze, 2016, Malga Cagnon di Sopra Foto di Massimo Cecconi Per tutti l'Agnese, conosciuta in valle e non solo, è l'emblema della donna coraggiosa e forte che ancora si può incontrare sulle nostre montagne. Classe 1939, da sempre malghese proprietaria di Malga Cagnon di Sopra, Agnese in questa foto è impegnata a preparare il curro secondo la tradizione, mantenendo la stessa passione e cura. Anche gli ingredienti e le procedure sono quelle di una volta. Anna Maria Stropa, agosto 2019, Malga Eze Federica Stropa, luglio 2019, Malga Eze Anna Maria e Federica a Malga Eze, con i genitori Albino ed Eleonora, custodiscono il loro greggio di pecore. Ritratto in Malga per Anna Maria, che porta con sé la zancola, bastone di legno con parte superiore a ricurva, utile per essere afferrato e per sostenersi. Al Pascolo ci sono anche manze e gli asini che rappresentano un aiuto prezioso per i maldisi. Giustina Pecoraro 2013, Malga Casa Bolenga Giustina munge in aperto campio una delle sue mucche. Seduta sullo scagno da Molder, raccoglie il latte in un secchio di latta. Sabrina e Giorgia Borgogno, 2017, Malga Casa Bolenga Giorgia e Sabrina, due sorelle da sempre appassionate di allevamento, sono qui ritratte mentre imparano dalla malghese Teresa a mungere le mucche. Marcellina, Rita, Tomasina e Rodolfo Roperato Casanova, 1938, Calamento Claudia Campestrini con il fidato amico a quattro zampe Brick, 1963, Suerta Bambini in posa davanti alla macchina fotografica che l'immortala immersi nei verdi prati che si stendono accanto alle baite. I bambini trascorrevano gran parte dell'estate in montagna con le loro famiglie. È convinzione comune, ripetuta anche dalle nonne di oggi, che l'aria dei monte, la che fa bene ai poppi e che ghe, aria fina e i tusetti i mette su guanciotte belle rosse. Anna ed Elisa Pecoraro, 1987, Lago di Erdemolo Le sorelle Elisa e Anna ci guardano sorridenti dopo essere arrivate fino al Lago di Erdemolo che in quegli anni era una grande distesa di neve. Ada Semiana con la nonna Anna dalle Donne, 1954, Val di Sella La bisnonna Anna aiuta la nipote Ada, mamma di Elisa e Anna, a bere dalla tazza comodamente sedute su un grosso tronco di legno, gesto di cura sempre attuale tra generazioni. Giuliana e Lorenza dalla Rosa, 1959, Casa Bolenghetta Anche un tronco di legno può essere un gioco meraviglioso. Si trasforma in un cavallo le cui orecchie sono un appiglio sicuro per Lorenza, sostenuta anche dall'abbraccio della sorella Giuliana. Le bimbe indossano le babbucce e i calzini lavorati ai ferri dalle madri o dalle nonne. Maria Caterina Piotto e Lorenzina Franzoi Paolai, anni 60, Praide Musiera Foto ricordo davanti alla Teda, con un elemento di modernità, la tipica Vespa degli anni 60, guidata anche da qualche donna coraggiosa. Le piccole Alina e Bianca, un'estate con la mamma ad aiutare Agnese, 2013, Malga Cagnon di Sopra Foto di Pietro Cavagna, Sofia Caumo, 2020, Malga Colo Due aspiranti magliesi e una futura pastorella? Pillole di tradizione che si tramandano per non dimenticare le proprie radici. Giuliana dalla Rosa, con la mamma Anna Maria Maccani, 1956, Casa Bolenghetta A ricordo di un'estate passata in montagna, mamma e bambina posano davanti alla loro balita. Veronica dal Canale, 2005, Casa Pinello Foto di Cristian Cristoforetti Veronica, sorridente, guarda l'obiettivo della macchina fotografica e accarezza fiduciosa il muso della mucca. L'animale, con un ciuffo d'erba in bocca, sembra osservarla. Anna Campestrini, 1985, Lago Dezze, ai piedi del Sassorotto Quante passeggiate ed escursioni in montagna anche da piccolissime! Picozza in mano, scarponi ai piedi e il tipico berretto di feltro dei pastori. Così Anna, a soli cinque anni, raggiunge il Lago Dezze e sorridente si riposa su un grosso masso. Paola Lenzi e Sara Berti, con la nonna Celestina Lenzi, 1997, Gavanelo Ndonti a funghi? La ricerca dei funghi era uno dei passatempi delle vacanze in baita. Nonna, nipoti e la gattina Stilli ammirano soddisfatte il bottino. Tre gustose brise trovate nei boschi di Gavanelo, durante una passeggiata in compagnia. Daniela dal Castagnè, 1988, Suerta Daniela attraversa i prati di Suerta, portando con sé il petene, strumento in legno utilizzato per raccogliere i mirtilli che fino a poco tempo fa si trovavano abbondanti nel sottobosco. Anna, Denis, Michela, Roberta e Loris Campestrini, cugini Lamoni, anni Ottanta, Ciste. Una tavolata di tanti bambini, pranzo in compagnia per le piccole Anna, Michela e Roberta, con i loro cuginetti, Denis e Loris. Il cibo, consumato all'aria aperta sulla taula di legno davanti alla casera, è veramente molto più buono. Chiara Stroppa ed Elisa Mezzatesta, 2015, Malgaezze Come da tradizione, i flessibili rami di larice si trasformano in coroncine impreziosite dai tipici fiori di montagna, genziane, rododendri, ranuncoli, indossate da Chiara e Elisa. Un momento di gioia e di svago a Malgaezze, durante il tradizionale campeggio organizzato dal maestro Rudy, con le classi quinte della scuola primaria di Telve di Sopra. Famiglia Ferrai IV e Maria Crestani, 1926 Calamento Spaccato di vita in montagna della famiglia di Ferrai IV, Maria dei Crestani e dei parenti Battisti Incontro tra generazioni con in primo piano piccole donne scalze e vestite secondo la moda del tempo Presenti a destra lo zio frate, padre Lorenzo e due turisti Immancabili capra e pecora per il latte necessario al consumo giornaliero Lorenza Ferrai, Maria e Anna Fratton, anni 40 Calamento Ritratto di una giornata di pioggia Cinque donne in montagna si riparano con dei grandi ombrelli di panno nero e dei cappotti Gli antenati dei moderni Kiwai Malghesi e proprietari del bestiame a fine stagione, 1 settembre 1938, Malga-Valsorda II Ultimo giorno in alpeggio a Malga-Valsorda Le donne in abiti da lavoro posano per una foto ricordo assieme ai mariti Che durante la stagione estiva si sono dedicati a curare la Malga Non possono mancare le forme di formaggio prodotte nel corso dell'estate Vittoria Palù, anni 40, Malga-Casapinello Vittoria e un'amica sono ritratte davanti al barco di Malga-Casapinello durante un'escursione estiva Con scarponi, bastone e fazzoletto al collo visitano le mucche in alpeggio Piera Degan con compagni del campeggio studentesco, 1957, San Martino di Castrozza Le palle di San Martino fanno da sfondo a questo scatto ricordo di un campeggio studentesco Piera e le sue compagne posano sorridenti in un momento di svago Tutte le donne indossano i pantaloni lunghi Era passativo per le gite in montagna Un gruppo di giovani donne, sullo sfondo Castel San Pietro, anni 30, località Auseri, Torcenio Altre donne, ma vent'anni prima, si lasciano immortalare sotto il colle di San Pietro dove si possono scorgere i ruderi dell'omonimo castello Le ragazze indossano il tipico vestito della festa e portano i capelli raccolti Non si poteva infatti entrare in chiesa la domenica se non si era vestita in questo modo Un gruppo di frattini, abitanti delle fratte, località Fontana Bona Un gruppo della frazione fratte di talvi di sopra si riposa dopo la raccolta del fieno Le sorelle Costantina, Carmela e Camilla Campestrin, 1945, località Casa Pinello Gita in montagna Le sorelle Campestrin ritratte nel campivolo di Casa Pinello mentre si ristorano dopo una breve escursione Le sorelle Piere, ovvero Anna e Rosa, quest'ultima classe 1909, ritratte in due momenti della loro vita Anna e Rosa Dalceggio con famiglia, anni 30, località La Resè Posano con la madre davanti alle loro baite, in località La Resè Le mucche, di ritorno dalla Malga, rimanevano per un po' di tempo a mezza montagna, prima del ritorno a valle Era compito delle donne accudirle Anna e Rosa Dalceggio, 12 ottobre 1997, località La Resè Stesso luogo, quasi 60 anni dopo, davanti alla tradizionale fornasella Piccole e grandi donne della famiglia di Gilda Franzoi, paolai, 1956, calamento Undici donne, è la di Lascalia, scritta da Berto Pevarello, autore della foto Scattata a calamento nell'agosto del 1956 Imposa tre generazioni di donne, con al centro nonna Gilda Zahira Dal Castagnè, fine anni 40, ziverana Anna Furlan, fine anni 40, ziverana Scherzando un po' potremmo dire, trova le differenze Zahira e Anna, sedute sul medesimo masso e con una borsetta uguale ai loro piedi Sono fotografate nello stesso posto e probabilmente nello stesso momento Vicino ad Anna compare un simpatico cagnolino Anna Furlan e Zahira Dal Castagnè, 1942, ziverana Anna e Zahira si mettono in posa per una bella foto Sedute su dei massi davanti alle mucche al pascolo Portano con sé un bastone in legno per la camminata E indossano un vestito e una camicetta con gonna Un abbigliamento tipico delle donne in montagna negli anni 40 Ben diverso da quello indossato ai giorni nostri Rosalbina Trentin, fine anni 50, Malga, casa Bolenga Istantanea di una giornata tra amici Rosalbina si disseta con l'acqua di una fontanella Dopo aver raggiunto a piedi casa Bolenga da Telbe di sopra Cesira Rigo, agosto 1947, Cervinia Cesira Rigo, emigrata in Svizzera negli anni 40 Per lavorare come domestica, manda questa foto al futuro marito Dario Si fa ritrarre sulle montagne di Cervinia con un binocolo e sembra guardare verso l'orizzonte Verso altre montagne, quelle del suo amato Torcenio Scrive sul retro della foto Mi riconosci? Giuseppina Nardelli in Conte, 1934, Malga, la Boschio Giuseppina è ritratta in questa fotografia con lo sguardo rivolto verso il paesaggio montano circostante e con la mai Galagoschio alle sue spalle Giuseppina Nardelli in Conte, 1934, Malga, la Boschio 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 Giuseppina Nardelli in Conte, 1934, Malga, la Boschio